Eh eh, bel colpo eh. Dai. Sì, sì, sì. Che morbido. Buono. Mmh. Spazzolato eh. Per pranzo, Filadelfia? E adesso? C'è quello là, quello che sembra Filadelfia. Quella che hai dimenticato la zia? Sì. Sì, facciamo noi. Non so se andrà bene. Mo. Beh, non avete fame oggi? Eh? Ma questo non è Filadelfia. Perché? Io ti sembro Kaori. Quello vero si riconosce subito perché è originale. Filadelfia. Il piacere ha un gusto unico.